Ciao a tutti ragazzi, è il vostro Lioke, oggi siamo qui in questo nuovissimo video arrivati sulle Bad Wars Dopo tantissimo tempo che non entro in questo server su ParkerCraft, attenzione, che saranno secoli in cui non entro Però ragazzi penso di ritornare a fare i minigames qui Allora, perché mi piace soprattutto come è fatto? Prima cosa ragazzi, io vorrei farlo salutare YouTube per chi ha voglia, tra il gruppetto in cui sono Ok, facendo salutare YouTube sono più un mimbo felice Comunque ragazzi, è da un bel po' che non gioco con le Bad Wars, quindi c'è da dire che non sono più abituato, c'è da dire tante cose E devo capire un po' come cacchio se faceva le Bad Wars Che poi su Parker non l'ho... ma to' perché mi piace Saluto Lioke Popon Popon Ma che cacchio Popon Ma che cacchio Comunque questa gente non la conosco tipo mai, ma loro conoscono a me, va bene Comunque ragazzi, a parte i scherzi Stavo dicendo da un bel po' che non faccio Bad Wars Poi le ritorno a fare proprio su Parker, dove non ho mai giocato Un po' nassunzato, perché non mi ricordo già come si fa Poi entro in un server nuovo, va bene Però ragazzi, devono entrare in un altro server, senza fare nomi Io ti seguo Lioke C'è ragazzi davvero peccato di gente che mi segue Allora, allora bravo, damme, damme tutto Sì, comunque ragazzi, ho perso il filo del discorso di prima Se non me li siete ancora accorti Ma fai il ponte, no? Ah, perciò diceva ponte T-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t Vedi ragazzi, per esempio su altri server, perché non faccio nomi per rispetto di questo Con 8 di bronzo potremmo prendere il bastoncino Invece stavolta no Ok, secondo me, perché ragazzi io vi ricordo la mia tattica Bastoncino, nudo e andare all'attacco La tattica più forte che ci potevamo essere Allora, tagli chicchi Tagli, 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 tagli Quindi ragazzi, davvero ho beccato qualcuno che mi segue Cioè, guardate, guardate un po' il culo Il culo che c'ha vita Allora, ragazzi, comunque vi avverto Sono senza webcam, a differenza di ieri Perché, sinceramente, sinceramente Non ce l'ho voglia perché sono tutto scombinato Dovevo prepararmi un po' delicato E mi scoccevo, e mi scoccevo Che c'è di male, mi scoccevo 2 di ferro, ok Prendiamoci questo, cominciamoci un po' a Tanchintiare, che non vuol dire un ghets Vuol dire tankarmi, però va bene Ragazzi, io spero che il video comunque non uscita troppo lungo Eh, lui che sta registrando Ovvio che sta registrando Stavo dicendo, spero che il video ne esca troppo lungo Quinta al caso, perdonatemi Ok, vi voglio bene comunque Allora, stavo dicendo Prendiamoci l'armatura Voilà, voilà È morto Siamo emozionati Ciao tubo Io lo faccio saluto Posta prima il tubo, signorina Comunque Ah, 4 di bro No, sì Prendi tu Bravix Caschetto Lui adesso crederà che è un dono Però in realtà l'ho preso in più Vabbè però, ragazzi Oh, è sempre un dono, eh Scusi Non è che se uno va al supermercato E compra una busta di patatine in più Te la regala, non è un dono È sempre un dono, eh Se gli scappa la busta di più Non so cosa sto dicendo Voi zitti Voi Porca truta Mi sto a comprare 10 caschetti Mi sto a comprare 20 caschetti Dovevo comprarmi questo, cazzo Non riusciva a comprarmi quel, cazzo Vediamo se non riesco a prendermi un piccone Eccolo qua, uno normale E, raga, cominciamo ad avventurarci verso lì Ma tu, che cacchio di puro Bravix Ma sei matto? Sei matto? Putta Anche lo Hanno rotto il ponte E noi lo continuiamo a rompere Non so se è una buona idea, però, eh Perché dopo quando è che ci arriviamo a quelli? Ma quella, ragazzi, sarà una seconda cosa Purtroppo, ragazzi, oggi laggo anche di ping Questo mi dispiace molto, però Dai, non fa niente per stavolta Quello ci è rimasto malissimo Tanto per fare il ponte Palla presa in quel ponte Cats Forse non devo rompere Cats Oddio, ma mi chi c'ha l'arco, quello? No, no, ok Ok, stavo scrivendo attenzione Perché Oh, Strunz Dove vai, Strunz? Dobbiamo fare una scala alta Una scala alta Perché giustamente chi è che ha visto una scala bassa? Strunz Eh, vabbè, sì, sì, sì Vabbè, raga, quello cade per danno da caduto Se continui a salire in giro La vita è brutta che si salvi Allora, vado in base Vado a prendere un po' di Cuso Un po' di blocchi E vediamo un po' cosa fa Allora Eccoci qui Dammi la bella roba Ragazzi, io spero che questi gameplay con la shaders Comunque vi gustano un pochettino Perché Perché nessuno si lamenta Confruttati una volta Quindi penso che vi vadano bene Io spero, perlomeno Voilà Prese la sandstone E rientriamo subito di corsa lì Oh, ma Certo Grazie, connessione mia che serve Oh 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 Questo, questo Aiuto, non vedo più rete Prendiamolo Ma mica Mica ha rotto il letto No, no, no Sembra di no Sembra di no Dove cacchio se è il letto nostro? Ma Dove minchia era? Ragazzi, io spero che non l'abbiano rotto Io non me ne sono manco accorto No, in teoria no Perché io, vi ripeto Su Parker Non so come se faccio Su altri server Ti dice a fianco Morto, non morto Praticamente Vediamo Ok, non l'hanno distrutto Perché è rinato Il signorino Comunque Prendiamoci un po' di ferro Un po' di ferro Voglio dire un po' di bistec Bistec Bellissima E Andiamo a combattere Per la patria Ciao Bravix Purtroppo un giorno Niente da darti Ti voglio bene Vado quando è notte Però ragazzi Con la cedera Sei molto inquietante E credo che Vi diate ben poco Perché mi devi mettere In difficoltà Ho visto qualcuno C'è raga Guardate Il lotto al buio Maronmi E che è? Ah, pensavo Avevano rotto un blocco Sto peccati Raga Al buio Sarà molto più aggressivo Io spero che Su YouTube Comunque non sia troppo oscuro Oh, ma questo Si è un accorto Che c'è sto dietro di lui Aia, aia Come cazzo? No No raga Raghi Laura No raga L'avete visto? No raga È impossibile Quello che ha fatto Oh, strunze La connessione Non mi sta laggando No 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 Non mi sta laggando No 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 ma adesso Non sto per crashare Ma quando Io crasho Ma quel paese Ma dai Dai potta Non posso crashare potta Sì raga Maron Avete visto il lag? Avete visto il lag? Maron Ok condivido Con gli altri Il mio lag Ok sembra che sia Tornato Stabile Ma era meglio Tenere il tele per te Gravix Grazie Gravix Maron Come siete gentili Raga Poi la finica Non era diretta Mera Per il compagno di squadra E Figuro di merito Allora Andiamo di qua Ma perché c'è anche qui Un generatore Ma c'è anche qui Un generatore Ah no Avano troppato il ferro Va bene Ci speravo Di niente Ok era diretta A me Comunque grazie Gravix So che stai guardando Questo video E ti posso dire Che sei davvero Bravix Ho fatto una battuta Si raga lo so che era una battuta Molto depressa Voi zitti però Allora Dobbiamo andare a prendere Altro ferro Perché davvero Ci serve il ferro Io questa partita Non voglio perdere Soprattutto perché Ho beccato qualcuno di voi Con cui sto giocando Qualcuno che mi segue E di conseguenza Dobbiamo vincere E di conseguenza dobbiamo vincere Per la patria Oh guarda quello Ragazzi comunque Quello ce l'aveva per forza Ah ma questo è uno dei nostri Credo si Quello ce l'aveva per forza La kill Ma tu pensavo che l'avete Favre buttato giù Oh no Ragazzi c'è la kill Ora non finì C'è la kill Ora non finì Avete visto Ma è morto A PDP Voi potresti Ma è normale Tu stai laggando No ragazzi Quello prima non c'era Proprio vicino a me E mi ha fatto morire Proprio in un modo bruttissimo Cioè era inconcepibile Quella cosa La partita termina Tra 22 minuti Mie che Ci abbiamo fatto 9 minuti Aia Maron mio lag Maron mio Ma l'itek sta con noi Sì Io ovviamente Picchi i miei compagni di squadra Perché sono un grande genio Allora No vabbè signori Però signorini Non mi posso bloccare qui Il mio lag Mi sta Distruggendo Non capisco Allora un attimo eh Volevo vedere se Proviamo a fare così Voilà Ho quittato da TeamSpeak Praticamente Ragazzi non si sa mai Che se È quello che mi fa laggare Che ne so Molti diranno Luke ma TeamSpeak Non consuma nulla La connessione Non te la mangia proprio Eh raga Non si sa mai Voilà Voilà Attenzione Pupupu The server You Ma dai Non mi puoi dire Questo che mi hai crashato così Ma si strunza allora Ah raga E com'è brutto crashare Ma non penso Se non crashate anche gli altri No Non credo Non credo Non credo Vabbè ragazzi Io spero che il video di oggi vi sia piaciuto Forse è durato poco Può darsi anche che lo chiamo Provando a registrare le bad Forse io volevo portarvi un gameplay Oggi la connessione non me lo permette Però Non me la sento di lasciarvi oggi senza video Quindi spero che Gratiate comunque Un po' abbiamo cazzeggiato quel poco che potevamo La partita non è finita Io spero Che per l'onore Mio Che sono muerto Crashando Abbiate vinto la partita Voi che siete rimasti dentro Comunque ragazzi Io vi saluto Ci becchiamo al prossimo video Vi chiedo ancora scusa Se è durato poco Però Tutti questi problemi Sapete com'è Non è colpa mia Sono successi Può succedere che crasho Sapete la connessione mia Anzi se clicco tab Un secondo eh Clicco tab Ah no adesso dice che Mi manca solo una tacchetta Prima mi mancavano 30 tacche Comunque ragazzi Ancora una volta Spero che il video vi sia piaciuto In tal caso lasciate like Commentatelo Condividetelo E fatemi sapere nei commenti Se volete una bad worst Magari completa Si lo so Iscrivetevi al canale Ci becchiamo alla prossima E ciao a tutti ragazzi